Si è trattata di un'attività abbastanza articolata che ha visto assommarsi indagini di natura tradizionale quindi dovute al contatto sul territorio con il cittadino e attività di natura tecnica quindi fatte successivamente dalla Polizia Giudiziaria. Nella sostanza siamo risaliti agli autori del reato, grazie, questo è un aspetto fondamentale per noi, lo richiamiamo ogni volta, non saremmo mai stanchi di richiamarlo, la collaborazione del cittadino. Nella fattispecie abbiamo di fatto ricevuto una segnalazione di una turista che nelle fasi salienti del fatto delittuoso aveva assistito e documentato la propria permanenza lì in zona qui a Riccione con un video nel quale veniva ritratta la propria famiglia e a margine venivano ripresi alcuni dei componenti di quello che poi abbiamo ricostruito essere il gruppo che aveva materialmente portato a compimento il fatto di reato. In una fase successiva, raccolta questa iniziale segnalazione, siamo riusciti a mettere insieme degli altri elementi frutto della conoscenza ancora in questo caso del territorio e dei gruppi che operano a livello criminale sull'area nello specifico settore e nella fattispecie sui soggetti che di solito compiono atti predatori di questo genere. Nella fattispecie è stato rapinato un dentista bolognese privato di un orologio di pregio del valore di circa 70.000 euro e abbiamo di fatto documentato il loro viaggio perché erano soggetti di aria campana in giornata da Napoli verso la riviera Romagnola. Nel momento in cui hanno deciso di ritornare si sono visti accolti dai carabinieri di Riccione che li hanno poi dopo tratti in arresto.